Marci siamo tornati con i Minecraft maledetti Buongiorno, partiamo molto bene Mi era dimenticato della rana La rana ormai è nostra amica Multishot A quanto ho visto C'è la lingua Ferma A quanto ho visto, tecnicamente è uno di quelli infiniti È uno di quelli che non si ferma mai di video Quindi, che diamine è appena successo? Steve 2 Ma che cavolo Steve 2, dove stai andando Steve 2? No, non è vero L'ha raccolto così Marci è tutto quanto in game sta cosa Cioè, rendiamoci conto che No, non è diventato una rana Esatto Ma come fai a saperli? Perché ha multishot Ora è diventato un villager Ora è diventato un villager Quindi potrebbe tradare Ok E ha preso un portale del nether Che ha tenuto in mano Però, posso dire una cosa? Posso fermare? Secondo me, in questo momento è stato in editing Quello che ha aperto il coso del villager Vedi che braccio non ha fatto il movimento in avanti Quindi secondo me era editing Cioè, non era una roba fatta vera Può essere, può essere Però Questo anche si può fare Non è difficile Questo si può fare assolutamente Assolutamente Però, questo Come me lo spieghi, madame Marci Che sta rubando mob da... Mi ha cavato gli occhi Ma pover... Non hai capito? Ha preso sia i blaze Che le under... Eeeh... Come... No No Dove l'ha sparato? Ma è arrabbiatissimo oggi Steve 2 Vabbè, cos'è sta roba? Cioè? Oggi è completamente cursa dal 2000% Marci Lo so che sei senza parole Però... Cioè, lo sta portando al land Sta fluttuando come una canna da pesca Con un enderai sopra Eeeh... Non arrivare al land Sì, sono arrivati Attraverserà... No, ok, no, si è fermato Quindi se lui scava qua sotto Dovrebbe arrivare direttamente nel portale del land Il nostro... Non è vero No, non è vero Ha alzato il chunk Eeeh... Hai visto cosa si è messo ai piedi? L'acqua Cioè, il blocco d'acqua Qua No, qua Cioè, alzare il chunk con le braccia Fuori Sì, ma non è proprio un chunk Un 8x8 sembra Sì, è un... Un... Metà chunk Dai, facciamolo così C'è un creeper dietro, amici Amici Lo sta scavando Lo sta... Al pelo l'ha preso peraltro Sì Lo lancia contro loro Lo sapevo Lo sapevo Questo ormai è un po' Ho imparato a conoscerli Quindi... È una bomba, eh Ma come sono mosso? Ah! Eeeh... Ok, ragazzi Non... Non è vero Non... Io voglio vedere il retrosceno Vuoi vedere il retrosceno Di questo silverfish gigante Che viene mangiato Da una rana enorme Per caso? Non è vero Non è vero No, perché sta succedendo, Marci L'ha fatto L'ha fatto Entreranno nel portale Adesso farà No, no No No, no, no No Aspetta Aspetta Cioè ha... Mangia la rana La rana mangia il silverfish Lui arriva qua Apre la bocca E spara Li enderai Direttamente sul portale Del land Eh no, l'ha fatto, Marci L'ha fatto Ma adesso la rana Mangerà il portale Eh... Rana? Ah no, entra Dentro il portale Di dentro E sono nel land No, ancora peggio Non è vero Non è vero Eh sì Ma non è vero Eh sì Eh... No 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 Questo qua sta sfondando Cioè ha rotto una parte Della rana Sì ma non hai capito Ma l'enderman Ha rubato Non si può ammazzare Con l'arco È vero Anche questa cosa qua È vera Hai ragione anche tu Bene Cosa ci aspettiamo Adesso dal land Perché io ormai Non mi aspetto niente Ormai Ok Ah La speedrun sta facendo Il nostro amico La speedrun No sta dormendo No L'enderman Si è mangiato La rana Con la lingua No sta dormendo Eh lo so Marci L'enderman sta dormendo Eh Signore enderman Eh Signore Ah gli ha tradato L'enderman No L'ha cambiato blocco L'ha ammazzato Eh 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 Cioè l'ha ammazzato così eh Mi ha un po' No No Enderman Non farlo Non farlo enderman Cosa sta combinando Ah non puoi piazzare Poi piazzare l'acqua Nell'end Sì sì Ok Eh Ha fatto un bucket gigante Che No 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 Non è vero Marci Non è Io sono Io oggi è il miglio A livello generale Il miglior video Perché Sì La metà delle cose Non so Sì la metà delle robe Ma a parte che alcune volte Capitava di vedere cose Che hanno già fatto Ma rifatte meglio Questo è Centomila volte diverso Vabbè però Adesso non è più continuo Sono tante gag diverse Quindi lui li trade Direttamente alla gunpowder Ok Villager Ha eliminato Milcair Milcair Che sarebbe Steve 2 Sarebbe Sai che ogni tanto Cambia anche nome Steve 2 Ma sai che io ho pensato Una cosa Dimmi Io penso Che tante cose Ci sia un altro player Invisibile Che le mette Per esempio Nella parte precedente Ok Ha aperto la bocca E ha lanciato gli enderai Ah come se tipo fosse un arco Che spara gli enderai Ma che è invisibile No è lui che le mette Secondo me c'è qualcuno sotto Perché comunque si vede Che è tutto Se voi avete delle teorie Ragazzi Ditecene nei commenti Che saremo super felici Ha shottato un Che figata No si era un golem Run Un po' arrabbiatino Aiuto Si sta saturando Run Run Vai vediamo qua cosa abbiamo The bug stick No era solo uno stick Che arriva dall'altro lato adesso Steve ti consiglio di spostarti Io me lo sento così E infatti lo sapevo Adesso vinta Ormai Vedi Questo è la classica Questo già l'avevamo un po' visto Anche altre volte Vedi È già una cosa che abbiamo visto Signor Lama Salve Ruggero buongiorno Buonasera No Lui non è Ruggero No 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 Aiuto È una guerra di sputate Eeeh No diventa un creeper enorme Un creeper lama Come me lo spieghi questo creeper lama Oh Ah non è finita Non Il bucket gigante Però non è uscita la scritta prima eh Sono un po' confuso dalla situazione generale Ti sarà dimenticato il nostro amico No no raccoglie Steve Lo bene Ah no Toglie tutto il mare No togli Immagini che figata Sarebbe No questa roba qua da fare Io posso dire una cosa Fare sta roba In Minecraft Fa laggare Cioè non Tu mentalmente Si provi a fare una roba del genere Scriptandola Mudandola così Lagga E qua non ha laggato Ma perché se tu noti Loro stanno fermi Guarda qua Te lo butta giù Sì Poi sta La visione sua di questo che ferma Guarda È ok ma anche qua Comunque Cioè sto mini freeze del movimento del bucket Lagherebbe Cioè questa roba No no è vero è vero Lo so lo so lo so Cioè vedi anche lui è confuso Dannazione Perché dice ma dovrebbe laggare Non lagga Come è possibile Però va bene ragazzi Va bene cioè io non è che posso dire qualcosa altro Mega golem Mega go Mi tira una palla gigante infatti Classicone Questo non l'avevamo mai visto ma Il classicone della situazione Perché sta allargando? È arrivato wide Ah wide snow golem Wide snow golem Carino Oh abbiamo una casettina La casettina di Steve 2 Steve 1 buongiorno Dixiao La casettina di xiao Per chi guarda le live Si è tolto i piedi Ok Si è tolto i piedi Il nostro amico Però cosa vuole fare Con i piedi Nella anvil Ah li vai in chantare Io lo faccio Infinito Io sta cosa l'ho fatta E cosa fai scusa? L'ho fatta in un video Ah c'hai le gambe infinite Si non ho fatto una roba così L'ho fatta un po' più bella E cosa fanno le gambe infinite? E diventa altissimo Altissimo Lui è gigante No no questo non l'ho mai fatto Giga Steve lui Giga Steve C'ha le gambe più lunghe e alte del mondo Giga Steve Potrebbe fare il modello Comunque è veramente bellissimo Io ogni volta rimango senza parole Perché alla fine è questo Quello che noi facciamo Rimanere Senza parola Non c'è qualcosa di assurdo E qua? Ti mangia la testa? Ship Shive Shivip Shivip Shivep Bene Eh sì È successo quello che comunque abbiamo appena visto Pistone contro Contro Il villager Lui è un blocco Si vedeva era fermo Era troppo fermo Lui era un blocco Si vedeva lontano di luce Quindi questa cosa qua la possiamo sfatare Forse è la prima del video che riusciamo a sfatare Questa si può fare Perché è un blocco entità Si può fare benissimo Se si muove ancora Eh questo è strano eh Questo mi ha Mi ha confusato Mi ha destabilizzato Mi ha confusato Eh ok Uovo del drago Faccia vita che non è successo niente Prima ragazzi Uovo del drago lo rompe E schiude Tira fuori l'ender dragon Eh Questo si può fare Questo è fattibilissima Come cosa Si può fare benissimo Eh Non commenta Va bene Puoi anche non commentare Amico mio Eh Saturazione Ok è esploso tutto Bene